bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questo nuovo video sono ancora a miami ovviamente questa settimana inizia la bitcoin conference di miami 2022 saremo in prima linea per questi 4 5 giorni iper iper produttivi di cripto di bitcoin soprattutto perché di cripto qui nella conferenza non ce ne sarà ma le cripto sono ovunque miami ragazzi poi ne parleremo magari quando ritorno farò un video anche su questo sono veramente ovunque perché c'è un evento ogni due minuti sulle cripto valute e insomma ragazzi si respira aria cripto proprio in questo posto oggi come tutti lunedì però andiamo a fare il punto della situazione per quello che riguarda la questione legata ai grafici all'analisi tecnica l'analisi ciclica l'analisi in generale le previsioni per quanto riguarda bitcoin e le cripto valute ragazzi allora questa settimana ce l'avevamo lasciati con bitcoin che aveva preso abbastanza forza nel settimana scorsa insomma negli ultimi giorni facendo il break del livello di resistenza che bloccava in pratica il mercato delle cripto veramente da tantissimi mesi cioè questa zona qui ragazzi aria 45 barra 46 mila dollari dopo un classico flash pump che le cripto valute fanno solitamente quando si arriva a questi livelli di resistenza quando si rompono questi livelli di resistenza bitcoin si è fermato e tornato indietro per fare il pullback classico di analisi tecnica questo è la figurazione quindi breakout pullback in più si è andato a sistemare proprio alla di sopra di queste due medie mobili che fanno anche in questo caso da supporto al trend di mercato allo stesso tempo la le cripto valute in generale hanno aumentato la loro forza contro bitcoin lo si può vedere anche relativamente alla dominance di bitcoin che è scesa ragazzi guardate qui quindi negli ultimi giorni la dominance ha iniziato di nuovo a scendere questo indica in sostanza che le cripto valute hanno reagito molto bene quindi totale cripto valuta quello per lo più top ten top 20 ragazzi perché per togliere dominanza bitcoin ci vuole tanta capitalizzazione quindi certamente non lo fanno le micro chi cripto quelle con bassa capitalizzazione però magari e tiriamo luna solana queste qui agiscono in maniera abbastanza importante sul grafico della dominanza e significa anche che quindi tutto il mercato è detto è ancora in buona salute perché reagisce in sostanza anche ai breakout di bitcoin quindi non è solo bitcoin al comando a fare queste cose ma le cripto valute come sempre agiscono in maniera abbastanza importante bisognerà vedere se questa cosa continuerà anche nelle prossime settimane perché in sostanza qui dal minimo di gennaio probabilmente la dominanza bitcoin ha iniziato un nuovo ciclo annuale quindi in teoria potrebbe ancora aumentare quindi potrebbe ancora fare una cosa del genere ragazzi perché mi aspetto comunque il ritorno intorno ai 47 mila dollari scusate ai 47 per cento di della dominanza potrebbe farla entro questo ciclo annuale quindi comunque si parla di mesi ragazzi il grafico della dominanza serve solo a comprendere la forza relativa di bitcoin e cripto valute quindi non ha una funzione operativa quindi non si va a operare però la si può utilizzare e da un punto di vista proprio tecnico quindi di analisi quantitativa per verificare se la salute del mercato cripto cioè perché se ovviamente abbiamo una dominance che cresce troppo con le cripto valute che non si muovono più a quel punto magari c'è qualcosa che non funziona allora andiamo a vedere la questione dell'analisi ciclica analisi tecnica come sempre facciamo la vediamo su bitcoin e poi andiamo a controllare il nostro workspace 2022 quello che ormai avete imparato a conoscere cioè bitcoin e tirio moto dal market cap della defy e nasdaq 100 per vedere a che punto siamo quindi facciamo una inquadratura generale della questione punto interrogativo sulla analisi ciclica di bitcoin per quanto riguarda il ciclo mensile di bitcoin è stato chiuso nella giornata diciamo del scusate ragazzi è saltata la registrazione sono in diciamo in mobile quindi abbiate pazienza allora per quanto riguarda la questione legata al discorso dell'analisi ciclica di bitcoin mensile chiuso il l'uno aprile con questo low intorno ai 44 mila e 2 sì o no allora questa è la vera questione perché ragazzi non abbiamo nessun dato al momento che ci fa presumere una chiusura di questo ciclo mensile qui e quindi la struttura di ciclo mensile che potremmo definire classica vi faccio vedere in questo caso quindi con un ciclo mensile che potrebbe essere stato di 36 giorni con un mini di basso ci sta assolutamente soprattutto se il mercato è molto forte poteva può fare una cosa del genere c'è ma niente di anomalo però in questo caso ragazzi avremo quindi un primo ciclo mensile da 31 1 da 36 e quindi poi saremo da questo punto in poi nel nuovo come facciamo a capire se questa cosa può essere vera o meno bitcoin deve nei prossimi giorni andare a breccarci aria 48 mila 49 e insomma andare avvicinarsi in zona 51 mila dollari quindi deve fare in sostanza una ripresa del trend rialzista che ormai ha innescato con questo break perché il trend di breve periodo e il rialzista nuovamente di medio periodo resta in barra di congestione di lungo periodo ovviamente è rialzista ragazzi non serve chiederlo allora qual è l'alternativa però che è un'alternativa non poco probabile è comunque abbastanza probabile ragazzi e l'alternativa è proprio che da questo minimo qui quindi considerando a questo punto magari non un una struttura binaria del ciclo mensile ma una struttura ternaria avremo una struttura creata in questo modo quindi con tre cicli sottostanti che vanno a comporre due mensili uniti lo so sono un po delle complicazioni però ragazzi fidatevi della questione è molto semplice non c'è niente di anomalo semplicemente sono invece che due mesi da 30 sono due mesi da divisi a 3 quindi sono 60 giorni divisi a 20 20 20 insomma più o meno questo è la struttura del ciclo ternario allora dovesse essere una cosa del genere cosa succede ragazzi cosa cambia cambia il fatto che questa struttura degli ultimi 20 giorni può essere debole perché può essere la fase di chiusura di tutto un movimento iniziato a gennaio cioè il trimestrale ciclo di 90 giorni di bitcoin che potrebbe avere una sua struttura in questo modo quindi bisogna con insomma attendere qui per avere un dato oggettivo il breakout dei 48.000 se avviene allora possiamo anche indicare che questa zona potrebbe essere l'inizio di un nuovo ciclo mensile e potremmo accettare la versione di natura binaria se invece vediamo bitcoin un po stantio fa magari un break ma non un vero break magari fa una cosa del genere e poi va in chiusura verso fine aprile adesso vi dico la data di questa struttura potremmo essere nella famosa m di più lunga insomma fatta in questo modo giusto per farvi capire la questione allora in entrambe le soluzioni in entrambi i casi da questo punto in poi nel ternario ci potrebbe essere una ripresa con l'attacco poi dei 50 mila 52 perché vi ricordo che per me è fondamentale che bitcoin ritorni al di sopra dei 50 mila dollari fondamentale ragazzi l'ho detto più volte ma adesso non ci ripetiamo altrimenti poi diventa noioso però è fondamentale che lo faccia entro aprile maggio questo è il discorso poi si vede per il futuro allora futuro intendo sempre nel breve breve periodo quindi la struttura binaria resta così e da qui potremmo avere un altro ciclo magari se sarà insomma un po più debole per chiudere il trimestrale sarà magari un po più cortino comunque in linea di massima la prossima scadenza strutturale per la zona di minimo e questa qui cioè fine aprile nuovamente intorno più o meno al 22 barra 20 scusate non è il 22 scusate e il 24 barra 28 teniamo in considerazione è un'altra scadenza ciclica che vi faccio vedere su eth perché questa eccola qui ragazzi allora questa è la struttura di etereum quindi stiamo guardando etereum adesso vi faccio capire qual è la questione allora da etereum probabilmente ha iniziato una nuova fase ciclica il 7 di marzo non prima quindi è desincronizzato rispetto a bitcoin ha una struttura un po strana rispetto al solito è completamente modificato però potrebbe andare a chiudere questa struttura ciclica proprio intorno a questa zona del 7 di aprile questa cosa per me è interessante perché diciamo mi manca una struttura ciclica quindi un po di giorni anche per una mia strategia che utilizziamo sempre in academy a strategia sulla volatilità che ci faccia tornare bitcoin intorno ai 40 mila ve lo dico in maniera molto chiara ne ho parlato forse anche in un precedente video adesso non ricordo allora stiamo un po attendendo per vedere un po se fa questa dip bitcoin leggera e questa potrebbe avvenire proprio cavallo di questa struttura ciclica di eth che potrebbe in effetti fare questa questa fase di chiusura allora dovesse avvenire una cosa del genere ovviamente tornano tutti i conti probabilmente bitcoin magari dovremmo risettarlo poi successivamente dal punto di vista ciclico ma dal punto di vista operativo diciamo cambia un po poco allora etereum anche lui è proiettato su un trend di breve che è al rialzo un trend di medio in bara di congestione un trend di lungo rialzista chiaramente però la struttura del ciclo annuale per esempio di eth vedete sta facendo la classica m quindi sarà proprio questa struttura ciclica a decidere se riprende a fare un nuovo massimo prima della chiusura del ciclo annuale che dovrebbe avvenire tra luglio settembre il tempo scarseggia è ovvio che teoricamente essendo nel ciclo bearish dei mercati delle cripto dovremmo avere un rimbalzo più o meno in questa zona e poi vedere la questione come va a finire ragazzi ma qui ci riaggiorneremo poi nei prossimi video questo è un anno molto importante iscrivetevi al canale se non volete perdere questi aggiornamenti ma soprattutto se volete diciamo comprendere un po quello che potrebbe succedere perché ricordatevi che questo è un anno molto importante nel settore delle criptovalute proprio gli anni che sembrano spenti gli anni che sembrano non dire nulla invece sono quelli fondamentali come questo 2022 veramente incredibile da certi punti di vista perché sta disegnando veramente delle configurazioni che potrebbero farci sperare nei prossimi anni proprio per il settore delle criptovalute sia da un punto di vista fondamentale ma anche da un punto di vista tecnico grafico quindi proprio sui cicli grafici nasdaq la questione nasdaq resta totalmente aperta siamo a 1 2 3 4 settimane verdi per nasdaq ragazzi allora quattro settimane verdi è una serie storica che inizia a essere tirata per quanto riguarda nasdaq non è anomala però inizia a essere tirata quindi la possibilità che magari nei prossimi settimane il mercato americano possa un po riposare con una candela settimanale rossa c'è ancora non è tiratissimo sono quattro settimane vedete insomma ad esempio qui ne ha fatte circa sette per esempio piccoline però questo è però un rimbalzo è vicino la media mobile è vicino il livello di resistenza principale che è 15.400 punti per nasdaq insomma anche una anche in questo caso c'è la struttura ciclica che potrebbe essere questa e bisogna stare a vedere sul nasdaq ragazzi ci sono le due ipotesi che vi ho detto la negli scorsi video cioè il fatto che sul minimo di questa zona qui che è il minimo di marzo possa essere iniziato un nuovo ciclo annuale o un semestrale in queste due configurazioni cambiano anche quello che può essere la logica del mercato delle criptovalute per i prossimi mesi di questa cosa che è un video più di medio lungo periodo ne parliamo nelle prossime settimane perché voglio fare un video proprio dedicato a questa ipotesi e a vedere quello che può succedere se siamo sul nuovo ciclo annuale per quanto riguarda nasdaq ovviamente quello che può succedere alle cripto a bitcoin è quello che potrebbe succedere invece se questo è solo un nuovo semestrale quindi poi ne parleremo comunque di questa cosa qui da un punto di vista invece della total market card della defi siamo proprio sul punto chiave ragazzi cioè questa struttura mettiamola anche sulle candele così la rivediamo sulle candele questa struttura è il rimbalzo più pericoloso che esiste perché intendo relativamente pericoloso perché ha fatto chiaramente la m del ciclo annuale che è iniziato qui quindi è una cosa abbastanza evidente ora la questione è se non ce la fa e inizia una fase di ribasso la struttura ciclica dovrebbe scendere al di sotto dei minimi che sono stati fatti proprio a marzo per chiudere questa fase ciclica questo avverrà comunque nell'arco dei prossimi 3-4 mesi ragazzi perché dobbiamo arrivare diciamo 3-6 mesi facciamo così dobbiamo arrivare a settembre perciò è un grafico al settimanale questo qui che vedete sulla total market card della defi non ha senso guardarlo da un punto di vista differente però però ragazzi questo sono questi sono i massimi precedenti il mercato se non li rompe chiaramente fa una figura di inversione di medio periodo importante e le coin della defi sono fortemente volatili quindi non è una cosa da niente perciò fate molta attenzione perché questo è uno snodo importante questa zona qui è uno snodo importante quindi fate molta attenzione proteggetevi formatevi su queste cose se siete troppo esposti su un mercato e non reggete la volatilità riconsiderate le vostre scelte in base al vostro livello di rischio non do consigli finanziari ma questi sono consigli da buon padre di famiglia ok è tutto figo quando guadagniamo ragazzi però pensate anche a proteggervi se magari volete essere un po più oculati su certe cose poi è chiaro il mercato sta tirando in questo momento quindi tutto viraliscio però il problema è se non succede questo va bene se succede una cosa del genere quindi fate volta attenzione allora se questa zona venisse poi superata con un ritorno in questo ambito qui ecco perché mi sentite dire che per me importantissimo che bitcoin vada a 52 56 nelle prossime settimane aprile maggio proprio perché spingerebbe anche questo grafico della total market cap della defy probabilmente appare nuovi massimi storici e in questo caso intanto diciamo si festeggia perché nuovi massimi storici della total market cap della defy significa comunque le coin di ethereum terra solana avalanche e phantom probabilmente magari chi prende un po soprattutto polygon eccetera a fare insomma dei bei balzi quindi questo sarebbe interessante comunque da vedere prima di una struttura naturale di chiusura ciclica però poi da qui si festeggia perché poi inizia un nuovo ciclo annuale poi ne parliamo insomma su questa cosa è molto molto bella ed ecco perché come vi dicevo è importantissimo il breakout di bitcoin di quella livello perché si tira questo grafico ci fa fare nuovi massimi e quindi siamo un po più sereni più tranquilli da questo punto di vista bene allora ragazzi per questa settimana come vi dicevo è possibile ancora un nuovo è una nuova struttura minima di bitcoin al di sotto dei 44 fino addirittura anche in zona 43 questa zona qui 43 e 2 dove in realtà ragazzi noi stiamo proprio aspettando bitcoin ve lo dico in maniera molto chiara in questa zona qui stiamo aspettando bitcoin in academy per una strategia che abbiamo poi andremo a verificare se ci sono le condizioni per un eventuale acquisto in by the dip in base ad alcuni parametri ovviamente insomma in academy facciamo cose pazze quindi non non insomma bisogna essere lì per seguire insomma le cose eccetera va bene detto questo vi ho un po dato il mio punto di vista in questa zona qui se dovesse arrivarci sarebbe interessante appunto il buy the dip per poi vedere se riesce a risalire nuovamente è lì però la situazione si fa rischiose come sempre ragazzi perché è normale si va a fare un contro trend leggerissimo ma un contro trend leggero in acquisto e quindi bisogna proteggersi insomma queste sono cose particolari però attendiamo anche che th ci dia il la con questo 7 di aprile ormai imminente manca pochi pochi giorni va bene ragazzi allora per oggi è tutto io vi ringrazio e noi ci rivediamo nel prossimo video e vi mando come sempre sui canali instagram in questo momento nelle storie vedete le patrie che facciamo con gli altri youtuber e poi vi mando anche qualche news appena posto sulla canale twitter perché no così con qualche magari piccolo piccola foto piccolo video e spezzone video della bitcoin conference miami 2022 ciao a tutti ragazzi alla prossima